Al via il Natale torricellese all'insegna di un ricco programma di eventi. In scena il più grande presepe etnografico, le genti della Laga, l'infiorata ispirata alla natività di Giotto, concerto di Natale, Capodanno in piazza e tanti altri eventi per la sesta edizione del calendario unico delle iniziative natalizie. Siamo alla sesta edizione di questo calendario Natale a Torricella, abbiamo molti appuntamenti, quelli di punta sono il presepe etnografico con l'apertura dell'8 dicembre, il Natale con l'infiorata in piazza sempre l'8 dicembre, poi abbiamo un concerto di Natale nella chiesa parrocchiale il 18 e poi in via sperimentale facciamo il Capodanno in piazza, il primo gennaio alle 17, quindi invito tutti i cittadini a partecipare, poi dulcesi in fondo la Befana che scenderà dalla torre principale della chiesa. Il cartellone Natale a Torricella si apre il 6 dicembre con l'evento Accendiamo in Natale. A seguire, l'8 dicembre, l'Associazione Infiorate Artistiche di Torricella realizzerà in piazza San Paolo una spettacolare infiorata natalizia dedicata alla natività di Giotto. Per il secondo anno consecutivo, perché le spiego è da un anno, quest'anno compie un anno l'Associazione Neonata, l'Associazione Infiorate Artistiche Trucioli in Arte, vogliamo continuare questa tradizione di regalare il presepe alla cittadinanza e il nostro modo per ringraziare tutti coloro che ci sostengono a partire dal comune, dalle altre associazioni, e dai cittadini che tanto ci amano. Pensiamo che questa espressività artistica e culturale debba sempre di più, qualora già non lo fosse, radicarsi nel territorio e rappresentare la nostra provincia, questa capacità di questi volontari di realizzare queste opere artistiche meravigliose e quest'anno ci ispiriamo alla natività di Giotto.